la visione di paese che abbiamo condiviso già da tempo. Matteo Salvini. Buongiorno, ben svegliati. Buona festa del papà. Io ne ho lasciati a casa due che dormono. Ho svegliato, svegliato. Ho strattonato quello più grande dicendo torno fra un po'. Quella più piccola invece non ci pensava neanche a smuoversi. Perché ne vale la pena? Perché innanzitutto vi dico grazie a chi viene da vicino e a chi viene da più lontano perché non siete normali. Ma io mi metto fra di voi. C'era l'ex ospedale psichiatrico di Milano che organizzava una rassegna molto bella dal titolo «Da vicino nessuno è normale». Perché poi il concetto di normalità è ovviamente quanto di più soggettivo ci possa essere. Però sapere che ci sono ragazze e ragazzi, quando dico ragazze e ragazzi vi guardo in faccia, si va dai 16 ai… mettiamo dentro mio padre che è del 45 ai 70 erotti, dai via, che arrivano da lontano e pagano in tasca loro per passare dai sabati e dalle domeniche non allo stadio al cinema, ma con tutto rispetto per chi va allo stadio al cinema, me compreso, ma per capire è un bel segno, soprattutto in un momento di pandemia, lockdown, guerra, paura, chiusura, nucleare, distanza. Siamo qua, ahimè, anche quest'anno con le mascherine e io spero che sia l'ultimo periodo, sgocciolo di periodo in cui occorre conservare questo. Il Consiglio dei Ministri di ieri l'altro, grazie a quei rompiscatole della Lega, perché poi far politica per me e per Armando penso sia capire, ascoltare e trasformare in pratica a servizio del cittadino una parte del tuo patrimonio valoriale, dalle cose più grandi, ovviamente dalla formazione dello Stato, io ho visto i docenti che ci sono oggi e anche le giornate di domani, dalla Costituzione, i padri fondatori, l'Europa, la giustizia, il fisco, però anche il contingente e quindi restituire il diritto al lavoro per centinaia di migliaia di italiani che erano stati espropriati del loro diritto al lavoro negli ultimi mesi, il diritto alla vita, il diritto al sorriso. Ieri sera un altro Consiglio dei Ministri dove dai e dai e dai da testoni quali siamo, ma io poi sono convinto che la coerenza, l'insistenza, la perseveranza, non dico resilienza perché è un termine che non mi entusiasma, lo lascio ad altri. L'insistere sulla via che tu ritieni giusta, poi alla fine ti porti da qualche parte, era dicembre quando si parlava di aiutare famiglie e imprese ad affrontare dei costi economici legati all'energia che sarebbero diventati fuori controllo, se andate a prendere qualche giornale di dicembre ci ridevano in faccia. Mentre noi stiamo parlando della grande architettura del mondo e della filosofia e di grandi progetti nazionali e internazionali, Salvini si occupa di bollette e va che cretino. Oggi se in pausa a scuola fate due passi qua in corso a Venezia oppure tornando a casa vostra dal Veneto alla Calabria passando per Roma lunedì, la gente di cosa avrà paura? Lavoro, serenità, famiglia e stipendio a fine mese. È chiaro che se per fare il pieno di diesel, se qualcuno di voi è venuto in macchina, avete pagato il doppio rispetto a quanto avreste pagato un mese fa e se per riscaldare il vostro negozio state consumando il doppio e se per dar da mangiare ai clienti del vostro ristorante perché siete in centro storico e quindi la sovrintendenza non vi permette di avere il gas e quindi avete tutte le piastre elettriche e quindi usate l'energia elettrica e vi è arrivata una bolletta, io le ho viste, da 5 mila euro e quando ti arriva nel tuo piccolo ristorante di paese una bolletta energetica da 5 mila euro, se non la paghi ti staccano la luce e se ti staccano la luce non cucini più la pasta con i fagioli e fallisci. Quindi ieri rifarà 2, 3, 4, 5 miliardi da dare a famiglie, artigiani, commercianti, imprese, siamo faticosamente arrivati a uno sconto almeno fino ad aprile di 25 centesimi al litro, si era partiti secondo i giornali da 10 però capisci che 5 centesimi, 10 centesimi, 15, 20, 25 ovviamente vogliamo salire anche perché lo Stato in queste settimane di maggior costo del carburante ovviamente incassa di più di IVA e di accise, ma lo Stato siamo noi, teoricamente, qualcuno in passato diceva lo Stato sono io, peccando di arroganza, che è un peccato che anche in questo 2022 entra in tante case, anche politiche, peccare di arroganza non è mai saggio, non ti porta mai buoni frutti, lo Stato serve per far funzionare la comunità, per redistribuire alla comunità, attenzione, redistribuire non alla maniera dei compagni in base alle simpatie, alle convenienze, permettere che tutto funzioni, in base a quel diritto riconosciuto in Costituzione americana, la felicità, che sembra una parolaccia oggi parlare di felicità, successo, merito, io spero che in questa sala fra le tantissime persone che ci sono, ci siano persone ambiziose, ambizione, obiettivi grandi, il chi si accontenta gode, ha rovinato milioni di bambini, mia figlia mi ha detto, poi i bimbi sono incredibili, perché fanno scuola di formazione politica, un bimbo di 9 anni, io ne ho 49, quando avevo 9 anni mi occupavo di calciatori dell'album delle figurine panini per chi ha la mia età, di cartoni animati dei vecchi tempi di Gigrobot, non avevamo strumenti, non c'era internet, non c'era i telefonini, non c'era… e quindi ti occupavi di quello di cui parlavi a scuola, adesso ho un bimbo di 9 anni, ma ti porta a casa discorsi, fra Biden, Zelensky, Putin, la Nato, il rischio nucleare, a 9 anni, le ho preoccupazioni, e settimana scorsa torna a casa e mi fa, papà ma tu sei ricco? E da una bimba di 9 anni ti aspetti tante domande, no Mirta, noi siamo normali, abbiamo tutto quello che ci serve, non siamo sicuramente ricchi, però grazie a Dio, grazie alla fortuna, grazie al lavoro, grazie all'impegno, riusciamo a dare a te e tuo fratello quello di cui avete bisogno, senza esagerare, no perché… ma da dove è arrivato fuori? Eh no, perché i miei compagni ti vedono in televisione, quindi se ti vedono in televisione vuol dire che sei ricco, ascoltavo Armando fuori, quindi se appari esisti, se non appari sei un minus, è anche il concetto di ricchezza per… e poi mi fa, papà ma perché Biden sta facendo così? Lì mi sono censurato, ho sviato come diceva Armando, poi capirai, poi te lo spiego quando sei più grande, però penso che avrebbe lei potuto confrontarsi in maniera degna con qualche genio che sta commentando in televisione l'evoluzione sullo scenario internazionale, però sono una ricchezza le domande e le paure di questi bimbi, l'altra sera era terrorizzata perché… ma magari visto che in Ucraina i ragazzi fra i 18 e i 60, grazie per il ragazzo, non possono andare via, tu e mio fratello, rischiate qualcosa e quindi spieghi, e quindi spieghi, penso, penso, pensano i bimbi di 9 anni, pensate voi, pensiamo noi, conosco e poi alimenti la conoscenza perché ovviamente è un dibattito che viene fuori in classe, sui social, TikTok. Una volta mio padre mi regalò, che avevo 10-12 anni, l'enciclopedia dei 15, ai tempi c'era dove andavi con le illustrazioni e adesso c'è il telefonino, c'è TikTok, poi ognuno fa quello che vuole, io a mio figlio ho detto tu fino almeno a 13-14 anni il tuo telefonino non ce l'avrai, perché mettere in mano uno strumento così complesso, enorme, bello, ma di difficile gestione deve avere i suoi tempi, penso, conosco e creo, l'ambizione dicevo, l'ambizione, puntare in alto, ma non averlo come unico obiettivo di vita, allora o divento milionario, o divento amministratore delegato, o divento ministro, o divento presidente, oppure sono un fallito, però neanche partire dicendo, prendo da questa scuola politica un pochino, perché poi magari se mi va bene faccio il consigliere d'opposizione nel mio paese, così almeno giro per la mia città e dicono, ah quello ha fatto strada, è diventato consigliere e poi prendo quello che mi serve, io ho bisogno che qua dentro ci siano persone che hanno voglia di capire e hanno voglia di cambiare il mondo, io ho fatto la tessera della Lega nel 90, qua c'è gente, alzi la mano a chi è nato dopo il 90? Madonna mia, per chi è collegato da casa i tre quarti sono nati dopo la mia prima tessera della Lega, questo è frustrante, saluto, ringrazio, buon giorno da San Giuseppe e ci vediamo, buon segno, io quando ho fatto la tessera ero in seconda al liceo classico al Manzoni, quindi hai 17 anni, non è che tu faccia una tessera di un movimento politico per fare il ministro o il capo di un partito? La fai perché a 17 anni hai un arco valoriale, poi erano tutti o comunisti o Ciellini, quindi sentivo uno che parlava di autonomia, di federalismo, di radici, di identità dei popoli, di famiglia e mi aveva appassionato, valori che valgono ancora oggi, ma poi penso ad Armando, non mi ricordo che anno era quando portasti e ospitammo il professor Rabuschka, proprio qua, a parlare di flat tax, 2014, dei matti, un matto, due matti, che otto anni fa portarono dagli Stati Uniti il professor Alvin Labuschka parlando di flat tax e di rivoluzione fiscale, anche allora ci risero in faccia sostanzialmente, o ignoravano o attaccavano, non è cambiato molto, se guardate io oggi non ho letto i giornali, era il 2014, anno del signore, 19 marzo 2022, o ti ignorano se ottieni qualcosa di positivo, o ti denigrano, o ti attaccano, non vado a citare Gandhi, ci siamo abituati, non faccio il piangina, lo lascio a qualche allenatore di calcio, io mi prendo le mie responsabilità e quindi vedo il mio ruolo, bisogna avere nervi saldi, competenza, ambizione, visione, il tema flat tax è attuale come non mai, il prossimo governo di centrodestra, perché è nelle cose che il prossimo governo sia di centrodestra, basta che il centrodestra ritrovi compattezza, serenità, umiltà e voglia di giocare di squadra, perché l'abbiamo visto, mi scuso con i non appassionati di calcio, però Paris Saint Germain e Real Madrid, sul valore dei singoli non c'era paragone, Paris Saint Germain è una squadra di milionari, miliardari, hanno preso nei singoli ruoli probabilmente fra i migliori al mondo e li metti in campo in undici, dall'altra parte c'era una squadra sicuramente con valori dei singoli molto più limitati, voglia, grinta, umiltà e compattezza, hanno vinto gli altri, non bastano dei bravi singoli, questo vi voglio trasferire come mia esperienza di questi anni di segretario di partito, i bravi singoli se non hanno una visione comune, se non stanno insieme, se non vivono insieme in consiglio comunale, in sezione, in famiglia, in azienda, rimangono dei bravi singoli che non vanno da nessuna parte, io in questi miei 30 anni di lega ho visto persone brave come me o in alcuni casi probabilmente anche più brave di me, perdersi, perdersi per impazienza, per la mancanza di una visione, quindi io ringrazio Armando che fra mille difficoltà, lockdown, prescrizioni, iper mega green pass e tutto quanto anche quest'anno testardamente ha voluto esserci e fatevelo un applauso perché il fatto che voi siate arrivati qua nonostante difficoltà, peripezie, con un parterre, se uno guarda il professor Chiarini, il professor Guzzetta, il professor Cassese, magari poi chiedete al professor Cassese della minestra che ha mangiato a casa sua, persona squisita, non la conoscevo, ho avuto modo di conoscerlo nelle scorse settimane con la sua signora a Roma e conto di approfondire questa conoscenza, non mangiavo la minestra da 7-8 anni, quindi è stato un tuffo nel passato, Violante, Furlan, Pinelli, Buongiorno, Calderoli, Nordio, Sisto, Liguoni, insomma robe che se lo organizzasse un Renzi o un Letta qualunque avrebbero le prime pagine sul New York Times, gli lascio le prime pagine sul New York Times, mi tengo probabilmente una breve a pagina 16 del giorno in cui però si sospetta di come Siri e Salvini abbiano organizzato questa mattinata perché c'è sicuramente qualcosa di losco, ci sono dietro degli oscuri finanziatori che con una triangolazione principato di Monaco, Alaska, Finlandia hanno pagato a qualcuno di voi la presenza qua stamattina e la procura di Milano ha aperto tre inchieste, tre, e quindi noi abbiamo invitato l'avvocato Buongiorno e l'avvocato Pinelli perché ci servono personalmente ovviamente, non perché abbiano qualcosa da raccontarvi perché una volta quando ero bimbo mi sentivo dire in famiglia è importante avere un medico in famiglia, adesso serve l'avvocato in famiglia perché il medico lo chiami una volta ogni tanto, io sono il raffreddore, però senza l'avvocato in questo momento se fai politica e non sei di sinistra e ti devi fare l'assicurazione sulla vita. Cambierà anche questo, ve lo prometto, grazie a voi cambierà anche questo e ci sono i referendum sulla giustizia che potranno essere un piccolo grande passo in avanti che non sono i referendum di una parte o di un partito ma sono un'occasione di sviluppo, di modernità, di trasparenza, di efficienza per 60 milioni di italiani perché fino a che un'azienda, un padre di famiglia, un'iniziativa politica, un'università, un'iniziativa economica dipendono dall'umore o dal malumore di qualcuno che si alza e rivendica la sua appartenenza di parte e poi giudica in una sala alle cui spalle c'è scritto la legge uguale per tutti, vuol dire che non siamo un paese ancora evoluto come dovremmo. Quindi i temi che con Armando abbiamo cominciato, con Armando e tanti altri ad affrontare anni fa sono qua, ovviamente adesso l'urgenza e il conflitto e quindi sto e stiamo facendo di tutto, anch'io sto personalmente incontrando, ormai lo faccio in silenzio per evitare, sto facendo numerosi incontri ad alto livello, in silenzio mettendoci la mia piccola pietra per provare a fermare le armi perché in questo momento le ragioni, poi domani voi ne parlerete qua in questa scuola, le ragioni, la geopolitica, i movimenti, il petrolio, le terre rare, i materiali, i flussi finanziari, le alleanze strategiche, i riposizionamenti militari, gli avanzamenti della Nato, tutte cose fondamentali da capire, però quando c'è una guerra che in questo momento sta uccidendo donne e bambini la priorità è fare di tutto per fermare questa guerra. Poi delle ragioni avremo modo di parlare e tutto quello che un politico responsabile dovrebbe fare e dire in questi momenti prima dovrebbe avere a monte la riflessione quello che sto per fare e dire avvicina la pace o allontana la pace. Tutto quello che allontana la pace e viene detto e fatto è da irresponsabili. Io sono preoccupato dalla facilità con cui qualche mio collega politico o giornalista, essendo onorato di avere entrambe le professioni in questo momento a curriculum, parli di guerra, minaccia nucleare, come rispondo? Con un'altrettanta minaccia nucleare, carro armato, come rispondo? Con un altro carro armato. Io sono convinto che ovviamente occorra non dimostrarsi cedevoli, arrendevoli, impauriti o fuggiaschi o traditori, però occorra la forza del ragionamento, del dialogo, dell'ascolto, del confronto, delle ragioni. Quindi è questa la priorità. Però una volta dato il nostro piccolo contributo a risolvere questo conflitto, è onore al merito a chi ci va. Io quando ho visto che il premier polacco, il premier ceco, il premier sloveno, invece di parlare, hanno preso e sono andati, mettendo il loro corpo, pannellianamente parlando, a disposizione come strumento di pace e di blocco del conflitto, senza entrare nel merito delle appartenenze politiche, partitiche, valoriali, ho detto chapeau. Perché in tutti i momenti, in particolare in momenti drammatici come questi, si possono affrontare i fatti in due modi, o commentare quello che accade e quello che fanno gli altri, o fare di propria iniziativa qualcosa. O fai e si fai, ti esponi a commenti, a sostegni, a critiche, a volte pregiudiziali, oppure per non rischiare stai a casa e digiti e commenti quello che ti scorre sullo schermo della vita e i fatti che gli altri fanno accadere. Io non ho bisogno di spettatori, a me l'Italia non ha bisogno di spettatori cinicamente pronti a commentare, la Lega non ha bisogno di spettatori, abbiamo bisogno di protagonisti attivi del nostro futuro, che costruiscano, per costruire devi sapere, devi capire, ai miei tempi, ripeto, nel 90 non c'erano le scuole politiche, non c'era internet, c'erano i volantini, c'erano i giornalini messi abusivamente sui mercatini, c'era il confronto, c'erano i dibattiti nei licei, c'erano i dibattiti nelle università, dove due volte su tre finiva in maniera scienze politiche alla statale a Milano in via del conservatorio, una volta mi lanciarono dietro un estintore, quindi il dibattito politico ha lasciato, ho ritenuto, prima di dovermi allontanare e poi di riprendere. Adesso fortunatamente ci sono tanti elementi per capire e fra un anno toccherà a noi governare con una coalizione omogenea, ovviamente noi abbiamo scelto il sacrificio, la generosità, perché tu stai al governo con qualcuno che ti insulta un giorno sì, un giorno sì, poi sono dei fenomeni, governo di unità nazionale, governo di responsabilità nazionale, pum, e a sinistra passano il tempo e il giorno non a costruire pace fiscale, autonomia, flat tax, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione, riforma del codice degli appalti, riforma del diritto di famiglia, no, dagli alla Lega e dagli a Salvini, due modi di vivere diversi, loro vivono male, io non vivo contro qualcuno, noi non vinciamo le elezioni perché siamo contro qualcuno, noi l'anno prossimo dobbiamo costruire un paese che si rialza da anni di pandemia con la giunta finale della guerra, è un momento drammatico in cui a maggior ragione occorre essere preparati, coraggiosi e propositivi, ambiziosi, esserci per cambiare il mondo, l'Italia dei prossimi 50 anni dipenderà da quello che faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quindi io sono contento che voi abbiate raccolto la sfida, qua c'è sicuramente gente che darà una mano ad alto livello, non solo partitico, anche economico, imprenditoriale, perché per governare un paese non bastano i parlamentari o i ministri, servono i grandi amministratori delle grandi aziende, servono grandi funzionari pubblici, perché lavorare nel pubblico deve tornare a essere orgoglio, io trovo dirigenti pubblici, funzionari pubblici di basso, medio, alto livello molto motivati, ne trovo altri che tirano a campare, che aspettano con ansia il venerdì alle 14 o alle 16, per cui dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina non ci sono per nessuno, però lo Stato è questo, lo Stato sono i medici, sono gli avvocati, sono gli artigiani, sono i camionisti, ieri era la fiera di Verona, le piccole cose, grazie alla Lega abbiamo messo nel decreto mille proroghe 25 milioni di Euro per i prossimi 5 anni per aiutare i ragazzi sotto i 35 anni a fare la patente per il camion, che costa uno sproposito e soprattutto in tempi come questi chiedere a papà e mamma mi dai 7-8 mila Euro per fare la patente per i tir, parte il pernacchione e abbiamo trovato questi soldi per dare un contributo fino a 2.500 Euro, sono ragazzi che lavorano e ieri in platea c'erano i ragazzi dell'istituto tecnico e lo dice uno che ha fatto il classico e poi ha cominciato con scienze politiche, tornare a dare il giusto valore alla cultura tecnica e scientifica e quindi il numero chiuso nell'università più che sulle facoltà scientifiche, medicina, ingegneria, io sono per i numeri aperti sempre e comunque, ma se devo contingentare qualcosa, mettiamolo sulle facoltà umanistiche, perché avere un esercito di scienze politiche, giurisprudenza, lettere, economia e commercio vale di meno uno studente dell'ITS e dell'ITIS rispetto a uno del classico, no, anzi, visti i tempi che corrono, probabilmente è un problema a famiglia, punto, mio figlio fa il liceo, eh bravo, tuo figlio fa il liceo e poi mio figlio fa il professionale, mio figlio fa il professionale e ricostruirà il suo paese, non è che se non c'hai il liceo in tasca o una triennale in tasca vali di meno e quindi rimettere al giusto posto le priorità, il lavoro che ti aiuta a vivere e non deve essere l'unico stimolo, la sicurezza che non è un argomento della Lega, un capriccio della Lega, ieri ho visto che il sindaco di Bologna mi ha attaccato, Fratoianni mi ha attaccato, la Boldrini mi ha attaccato, ho detto va bene, allora ho detto qualcosa che va bene, mi hanno attaccato perché ho osato dire cuori e porte aperte a quei bimbi e a quelle mamme che vediamo scappare dalle bombe e dai missili che sono profughi veri in fuga da una guerra vera ma a maggior ragione ancora più attenzione a chi scende da Barchini e Barconi e non scappa da nessuna guerra ma la guerra ce la sta portando in Italia per rispetto di quei bimbi e quelle donne perché non è più il tempo di la qualunque, in tempi drammatici occorre essere precisi, puntuali, attenti, solidali, generosi, quindi grazie, dico grazie a ciascuno di voi, ci rivediamo nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane perché appunto conoscenza è il presupposto di libertà, quindi infatti Orwell e quei testi dovrebbero essere, io metterei, ripeto io sono un liberale, io sono per le libertà, libertà di scelta, libertà di stampa, libertà educativa, libertà economiche, libertà individuali, non sono per gli obblighi, però due autori secondo me nelle scuole dei nostri ragazzi dalle media liceo ci dovrebbero essere, Oriana Fallacci e George Orwell perché ti aprono la mente in maniera... l'inversione che è applicata da qualche distributore di disinformazione giornalistica, la guerra è pace, l'ignoranza è conoscenza, eh no, la guerra è guerra, la pace è pace, l'ignoranza è ignoranza, la conoscenza è conoscenza, quindi il mondo cambia grazie alla giornata di oggi, non solo ma anche, che era una delle formule latine che si cercavano sul Castiglioni Mariotti ai tempi, non so se esista ancora, non solo ma anche, nel senso che nessuno dice io cambio il mondo, però tanti singoli che sono pronti a fare squadra con una visione accomunata da alcuni valori di fondo, rispetto, la famiglia, l'identità, oggi è San Giuseppe, oggi è la festa del papà, non è la festa del genitore due, oggi è San Giuseppe ed è la festa del papà, questo va al di là di essere cristiani, non cristiani, cattolici, non cattolici, perché è in corso un tentativo di reset, di pensiero unico, di marmellata unica, di azzeramento, di annientamento culturale, identitario, valoriale, fortuna che ci sono i papà e le mamme. Uno dei drammi, leggevo, una delle cose che mi ha colpito di più e chiudo del dramma ucraino è che era una delle centrali mondiali della produzione di bimbi tramite l'utero in affitto e adesso, visto quello che sta succedendo, ci sono decine e poi diventeranno centinaia di bambini prodotti e sfornati, questi sono i termini, non figli di un rapporto e di una scelta, bimbi prodotti a pagamento. L'utero in affitto è un business nel mondo che cuba almeno 6 miliardi di euro, è una branca della produzione industriale, orbene ovviamente, visto quello che sta succedendo, i bombardamenti bunker, le mamme, le donne che hanno prestato parte del loro fisico in cambio di denaro per sfornare quel prodotto sono scappate, ci sono queste povere creature ovviamente lì abbandonate, dimenticate, non che possano essere recapitate con Amazon al proprietario di questo, si tratta e sono lì. Secondo me è un'aberrazione, secondo me l'utero in affitto e lo sfruttamento economico del corpo della donna deve essere dichiato reato a livello internazionale, perché non è il futuro che io voglio per i miei figli, quello del bambino che si compra e si sceglie su internet in base al colore degli occhi e dei capelli. Ci ha provato qualcuno nel secolo scorso e fortunatamente ci è riuscito, quindi pensare, conoscere, creare rispettando chi non la pensa come me. Ci sono politici che vorrebbero la droga libera, ritengono che non esistano mamme, papà, famiglia, cultura, passato, presente, futuro, che fraintendono i diritti con l'anarchia. Perché c'è il diritto del singolo sicuramente, ma in un contesto comunitario il mio diritto si deve confrontare col tuo diritto, col suo diritto, col patrimonio culturale valoriale che c'è alle spalle. Quindi la Lega è sicuramente movimento non controllato e non controllabile, per questo attaccabile, per questo, perché attaccano sempre solo noi? Perché evidentemente siamo un qualcosa fuori dagli schemi, che ha un'impalcatura economica chiara, liberista, liberale, fondata sul merito, sullo sviluppo economico, sulla creazione di valore aggiunto e di ricchezza. Lo diceva la Thatcher, a furia di redistribuire a carico dei sempre meno che producono, quando tu hai sempre meno grandi produttori che poi vai a coinvolgere per la redistribuzione, sei finito. È quindi da qua l'urgenza di una grande operazione di pace fiscale. bisogna avere coraggio nella vita e in politica. Due anni pandemia, una guerra che dura già da settimane, io spero finisca domani mattina, però non puoi far politica sulla speranza, sulla coincidenza, e quindi devi anche mettere in conto il rischio terribile, tragico, che va davanti altrove. Quindi pandemia, guerra, a situazioni eccezionali, risposte eccezionali. Occorrerebbe in un paese normale che ha il debito pubblico che ha l'Italia, che ha l'inflazione che ha l'Italia, che ha il livello di evasione che ha l'Italia, un grande reset fiscale, una grande massiccia totale, globale operazione di pace fiscale per rimettere in circolo nell'economia tutto quello che oggi è sommerso e per far tornare alla vita, al lavoro e alla dignità di avere anche perfino un conto corrente in banca, migliori di persone che adesso devono vivere come fantasmi. Non avrebbe più vantaggio lo Stato invece di tenere a bilancio 900 miliardi di euro che non vedrà mai, che mette come il compitino in classe, mette a fine anno 900 miliardi, non li vedrò mai. Non sarebbe più intelligente andare a parlare con queste persone, soprattutto sotto una certa cifra, perché la gran parte di questo arretrato non è composta da multimilionari che hanno evaso totalmente, sono cartelle esattoriali da 5, 10, 15, 20 mila euro che tengono in ostaggio milioni di persone. Non sarebbe più intelligente andare da queste persone a dire quanto mi puoi dare, dammelo, saldo e stralcio, io incasso una parte di quei 900 miliardi e li uso per le scuole, per la polizia, per gli ospedali, per i nostri anziani e tu torni a vivere, a fatturare, a esistere e a pagare le tasse. Ecco questo dovremo fare come Lega. In bocca al lupo, buona conoscenza, buona festa del papà, buona vita e buona fortuna a tutti voi.